L'idea di fondare il Club Alpino Italiano venne a Quintino Sella a seguito della prima salita interamente italiana al Monviso. Monviso che nell'antichità è stato sempre il simbolo della montagna per eccellenza, creduto per moltissimi secoli nella montagna più alta delle Alpi. Quintino Sella era all'epoca ministro delle finanze, Giovanni Baracco era un deputato del neonato Parlamento Italiano, i fratelli Sanrovere erano notabili, locali, insomma, quindi ebbe un significato particolare anche per riaffermare un orgoglio nazionale che, insomma, era ancora in un certo senso da costituire. Il Quintino nella mente e nel cuore delle persone che frequentano la montagna è quasi una personificazione. Come la prima volta che vieni qui per me resta un luogo magnetico ed è un incrocio di persone, di storie che penso in pochi altri posti. In questa giornata, in molti rifugi d'Italia, si celebra la quindicesima giornata della lotta all'ipertensione arteriosa che è un fattore di rischio cardiovascolare importante per tutti gli individui. In questi due giorni allestiremo una postazione di controllo delle pressioni arteriose per le persone che vorranno farlo e ci vorranno sottoporre a questo tipo di controllo. Direi che sul Sentiero Italia, posto che è frequentatissimo e sarà frequentatissimo, sarà bene fare. Grazie.